Per continuare a seguire in prima fila i fatti di guerra e l'andamento dei soccorsi e accoglienza dei profughi ucraini, i fatti relativi alla violenza sulle donne, gli aggiornamenti sulla campagna di verità e giustizia per Irene Palacino La Bambina Venduta. Venerdì 8 aprile ore 21 e in arrivo il mio talk show Riflettiamo Mangiando, con ospiti d'eccezione. Rete Oro, Canale 18, dedicato al popolo ucraino.